Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Monte San Savino e Arezzo. Sulla FIPILI segnalato personale su strada per lavori tra Empoli Ovest e San Miniato Basso. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trevis-Tiberina è riaperto il viadotto Puleto ai soli veicoli leggeri con velocità massima a 50 km orari. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Mozzano, chilometro 43-900, a causa di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!